La tesi che non ti aspetti ed è un'alcamese a far parlare di sé. Alessandra Gola, 26 anni, una che non si tira mai indietro quando c'è da sbracciarsi e ricoprire anche posti di responsabilità. Ha raggiunto il suo primo grande obiettivo, vale a dire la laurea in scienza delle comunicazioni per i media e le istituzioni conseguita all'Università di Palermo. E per centrarlo ha scelto un argomento che da giorni non sta facendo altro che far parlare di sé. La tesi che ha presentato ha un titolo emblematico, S-Word, segni, urbani e writing, e ha analizzato il termine SUCA. La scelta di questa ricerca non è stata casuale. La 26enne alcamese ha voluto studiare in ogni sua sfaccettatura questa parola che rappresenta una vera e propria icona pop per una città come Palermo, così diversa dal quartiere a quartiere, ma che si lega poi in quanto per l'appunto si utilizza il termine SUCA. Lo si trova scritto nelle pareti di ogni angolo della città, dai rioni più popolari ai palazzi signorili. Durante le passeggiate in giro per Palermo e non solo ho notato questa reiterazione di questa parola nello specifico che è appunto la S-Word, l'800A. Allora mi sono chiesta cosa fosse, perché ci fosse questa reiterazione e durante la ricerca per saziare questa curiosità ho scoperto che non c'era assolutamente nulla, o meglio, c'era davvero molto poco. La laurea è partita dal romanzo di Fulvia Bate che così nel suo 0 maggio a Palermo riassumeva l'ossessione viscerale dei suoi concittadini per quella parola dalle quattro lettere. Insomma, la giovane studentessa ha voluto affondare la sua ricerca su una parola talmente abusata quanto storicamente, per la sua origine, semi-sconosciuta. Eppure SUCA è diventato un vero fenomeno. Oggi a Palermo molti negozi vendono spille e magliette con questa parola che è persino riuscita a sbarcare i confini siciliani. Ha travalicato i confini dell'isola e sbarcata sul continente per varie ragioni, sia per magari chi ha deciso di andare a lavorare fuori, al nord, cercare lavoro al nord, sicuramente porta con sé un pezzo della propria cultura, della propria sicilianità. E quindi è molto semplice adesso trovare per le strade questa parola anche a Torino, a Milano ad esempio.